Due giorni di maltempo persistente e il peggio potrebbe dover ancora arrivare. L'allerta gialla della protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico che ha accompagnato le marche negli ultimi due giorni salerà infatti a livello di allerta arancione per la giornata di domani, giovedì 19 settembre, dove aumentano dunque il rischio di piene dei corsi d'acqua e di smottamenti franosi. Il tutto dopo un mercoledì che ha creato parecchi disagi, soprattutto nelle province anconetane maceratese dove solo nella mattinata odierna si sono svolti 70 degli 85 interventi eseguiti dai vigili del fuoco marchigiani per conseguenze del maltempo. Una situazione che ha già portato i comuni di Senigallia, Trecastelli, Iesi ed Osimo a chiudere le scuole per la giornata di giovedì. Anche a Pesero però la pioggia si è fatta sentire. La situazione più critica si è registrata in strada dell'Angelo Custode dove la pioggia ha fatto franare 30 metri di sede stradale con danni stimati in circa 200.000 euro come rilevato dal sopralluogo del sindaco Andrea Biancani assieme all'assessora Mila della Dora e ad Enzo Belloni, presidente del Consiglio Comunale con delega alla protezione civile. Situazione complicata in mattinata anche in zona Torraccia, Villa Caprile e Santa Maria delle Fabrecce con gli operatori del centro comunale che hanno chiuso temporaneamente al transito parte di strada Montefeltro e di Via Icaro per ripulire le strade che andavano via via riempiendosi di fango. Danni alle strade, disagi nelle scuole superiori dove le lezioni questa mattina si sono tenute fra secchi, stracci e scope. Particolarmente critica la situazione del campus dove le infiltrazioni negli edifici hanno creato allagamenti al Marconi, al Mamiani e al Bramante Genga. Completamente allagato e fuori uso anche il sottopassaggio pedonale fra il campus e via Guido d'Arezzo. Infiltrazioni non solo nelle scuole ma anche in alcune strutture pubbliche. Questa ad esempio è la situazione del padiglione di oncologia dell'ospedale di Muraglia segnalataci da un nostro telespettatore. Interventi anche per la rimozione di alberi caduti come avvenuto ad esempio in via Fratelli Rosselli in zona mare. In un settembre in cui è partita la maxioperazione di pulizia delle caditoie non sono mancati i tombini che hanno faticato a defluire il debordante carico d'acqua così come sono state diverse le segnalazioni di garasci e semi interrati allagati. Ora si incrociano le dita per la giornata di domani con tanto di stato d'allerta per pronto intervento della macchina operativa di comune protezione civile, polizia locale vigili del fuoco e operatori di marche multiservizi.